E sì che volevo capire anche lei, strappata a determinati ambienti, come potesse reagire. Ieri è passata una serata fantastica. Abbiamo riso tutta la sera, io poi avevo mangiato poco, ho bevicchiato, per cui... Al di là delle belle serate, della bella compagnia, del divertimento e tutto, ma che altro c'è tra di voi? Almeno da parte tua. Guarda, io posso dirlo, posso spoilerare una cosa che ci siamo detti in confidenza. Quando stavamo tornando da Montecatini e la stavo riaccompagnando, era domenica forse, domenica sera, a Livorno, lei mi ha fatto questa domanda, ha detto, perché non mi baci? Ha fatto questa domanda a bruciapelo e io gli ho risposto, in questo momento non voglio rischiare di sporcare un rapporto che è al di sopra. Grande balla, grande balla. Questa è la scusa che usa... Esatto, quando non hanno interesse, per carica, non ci provo per non passare da quello... Ma il bacio dovrebbe arricchire, non sporcare una conoscenza. Ah, esatto. Il bacio arricchisce una conoscenza, non la sporca. È qualcosa che è completo. Si è sentito. Grazie a tutti.